Hanno salvato la vita un uomo che si è sentito male mentre sciava due fratelli di Siracusano invitati a Palazzo Vermexio. Il sindaco Francesco Italia ha ricevuto ieri pomeriggio nella sala Raffaello Carancelo di Palazzo Vermexio Gemma e Antonio Quercioli, due fratelli che due settimane fa, mentre sciavano sulle montagne del Bellunese, hanno soccorso un cittadino polacco improvvisamente colto da malore e praticandogli un messaggio cardiaco hanno contribuito a salvagli la vita. Il sindaco si è fatto ricostruire l'accaduto e dopo essersi complimentato ha donato loro due targhe indicandoli come esempio di altruismo e prontezza di spirito. I due fratelli sono stati i primi a intervenire mentre lo sfortunato sciatore era già quasi privo di battito con un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca, pratica da loro conosciuta particolarmente da Gemma perché fa parte del suo bagaglio di guida naturalistica, sono riusciti a mantenere le funzioni vitale minime tali da consentire ai soccorsi di arrivare e di rianimare l'uomo con il defibrillatore. Trasportato in ospedale sottoposto a cure mediche è stato poi dichiarato fuori pericolo.